La chiesa di Natuzza Evolo aprirà il culto il 6 agosto. L'annuncio tanto atteso è stato fatto sabato scorso nella Basilica Cattedrale del Vescovo Attilio Nostro, alla presenza di tutto il clero diocesano e di centinaia di pellegrini. Tutto questo dopo anni di scontri e di divisioni a non finire tra la diocesi e la fondazione Cori Immacolato di Maria e il rifugio delle anime, alla fine appianati grazie all'intervento diretto della Curia Vaticana e con le dimissioni ufficialmente per motivi di salute, ma di fatto mai chiarite, del Vescovo Luigi Renzo. Ma questa è una vicenda, ci dice un uomo vicino alla chiesa, che appartiene ormai al passato, quello che conta adesso è il futuro, un futuro le cui prospettive si sono già intraviste in quel corale e interminabile applauso che ha salutato l'annuncio fatto dal presule. Ma se da un lato, con riferimento all'aspetto prettamente religioso, il territorio sembra essere pronto ad accogliere questa nuova stagione di fede, destinata a trasformare Paravati di Mileto nel breve volgere di qualche anno, in uno dei luoghi mariani più importanti d'Italia. Dall'altro, ovvero sul fronte del turismo religioso, nonostante le potenzialità che ci sono, il vibonese appare totalmente impreparato e se non addirittura completamente assente. Mancano servizi adeguati e nello stesso tempo un piano di coordinamento a livello provinciale in grado di abbinare le varie offerte al turismo religioso. La cosiddetta sinergia tanto sbandierata nelle partecipate tavole rotonde è scarsamente presente. Da qui le deboli ricadute sulle economie locali, nella maggior parte dei casi, in questo settore, afferma il titolare di una piccola struttura ricettiva, che opera in loco, regna l'improvvisazione e il fai-da-te. Chi viene da fuori spesso si trova spaisato e nella maggior parte dei casi dobbiamo essere noi a sopperire a tutte le assenze che ci sono.